ah cazzo mai non avevo sbloccato i scorciatoi da qui cazzo è il rattone ah un momento calmi tutti chi mi aveva disintegrato bella storia ah mi aveva disintegrato uno esatto con questo attacco quindi qua da qualche parte lo stronzo scusami ma con quel per io non faccio praticamente niente no scusami questa cosa la voglio un attimo controllare cognatura alta non ha preso spada chi spada chi spada mi ha un'aiutazione proviamolo no facciamo questo conclusione attenzione ma non resta spada chi neanche no facciamo inquignatura alta facciamo così patam mamma mia lentissimo comunque ammazziamo prima lui perché l'altro dovrebbe essere tosto molto bene però non vedo vantaggi in fare stipe away grande recce agogo c'è agogo ne vorrei agogo ma ah là c'è un obiettivo qua c'è un coso blu parecchia tortuosa la situa qua cazzo patim patam allora ah là c'è una signorina cazzo scusi lei è accessibile tipo cazzo cristo scusi bravissimo aspetti qualcuno o qualcosa mi ha visto chi è sto stronzo di merda guardalo là cazzo no cazzo ma pensavo di averlo colpito invece no signorina fa rumori strani la signorina fa rumori strani vedi qua c'è l'arrivo della signorina no cazzo ok questa è andata freccia va bene forse da qua arrivo dalla signorina eh mi sa di sì ma la domanda io voglio andare dalla signorina allora non me faccio incazzare signorina perché sono già incazzato per i fatti miei è andata moderatamente bene è andata moderatamente bene chi è guarda sto stronzo di merda lo potevo anche venire a prendere di presenza infatti ma non sapevo se ci stava l'inculata aspetta che sta accesa aspetta che muoia di vecchiaia molto bene bravo bravo quindi questo era solo per il giustamente però il cosignino il cosignino il cosignino il bauletto quindi qua posso tornare volendo indietro ma non c'è motivo di qua c'è un baule e dove è l'inculata? cazzo mica l'avevo visto giovane fa un culo sporca la puttana di Eva bastardo e se è rialzato ha dato subito il colpo attenzione allora qua c'è un altro aia c'è un altro di petto dovrebbe valere la pena affrontarlo subito no via cristo di dio porca la mignotta ma stia calmo giovanotto ok qui c'è una scaletta poteva andare peggio poteva andare molto meglio però la scaletta mi porta qua che mi porta qua che è blu vabbè niente di incredibile allora mi dà un nemico mega power qua mi dà un altro nemico però c'è un micetto da qualche parte quindi prima di andare dal qua c'è qualcuno ah ma ho rifatto il giro ho rifatto il giro non lo so forse si ah io sono venuto da qua ok quindi andati qua di qua si va oh cristo di dio scusi eh questo personaggio non è un po' rincoglionito porca la puttana di suo nonna aspetti un attimo che fa si è attivato qualcosa madonna mi ha quasi shottato incredibile quindi qua non c'è una sega qua non ci sono stato ma c'è il micio cazzo cazzo bastardo stronto io di una lavora di vice questo è singolo allora aspetta figati se non è una baldracca si guardi se non è una baldracca bella bella storia bella storia bello questo bello questo intanto proviamo a utilizzarne qualcuno è sport cristo di dio cristo di dio qui ho rifatto qui ho rifatto il giro si ho rifatto il giro si però io non sono ancora passato lì qua credo cazzo cazzo quello di fuoco ma vedi te che figa bella storia porca la mignotta di sua nonna via 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 porca grande grande giorgio giorgione eh però c'ho troppe anime c'ho troppe anime aia allora molto molto bene qua c'è una fontana ma c'è anche una baldracca quindi che si fa eh lo vedi che una baldracca porca ma che teriti che teriti eh vabbè purca che culo ma non si non si svampa ma non è vero ma non è vero muori baldracca e mo che cazzo ci faccio con sta fontana non ci faccio niente vabbè tanto per senti io potrei anche tornare al falò non mi prendo sto rischio tanto devo arrivare da qui e girare a e girare a destra che fa ma gara purca l'ho fatto solo per fare danni mi fa scherzi ti lascio 250.000 anime non se ne parla neanche eh stica adesso armonizza ma non al posto è la baldracca qua vabbè no togliami sta baldracca no no mi toglierà la baldracca allora mi metti questo vabbè lascia quello che c'è vaffanculo della baldracca andiamo di maglia 4 quindi in paese mi piace poi vuole portare anche costituzione a 25 allora quindi qua andiamo leggermente di corsa sulla destra domanda di qua porca la puttana di tua nonna ma ha fatto cagare in mano sì vabbè però che costa sta cosa eh vabbè meno male che ho sprecato le anime prima meno male ma con questo oro che cazzo ci possiamo fare così giovanotto bravo bravo quando uno è bravo è bravo devo fare attacco quello dall'alto però meglio vabbè comunque a 20.000 anime ce li avevo comunque andiamo a andare di qua dove c'è l'ognomo qua porca la puttana di sua nonna che cazzo guarda sto toporagno di merda vabbè cabino anche tu sei un toporagno eh rosa dove non ce l'avrei fatta a fare tutta sta parte con ma questo è un palo e qui le bestemmie cambiano qui le cose cambia vaffanculo c'è il palo sotto il naso ma questo viene qua guardate che rottura di cazzo e lo potevo prendere alle spalle però però sti gazzi sono sicuro che questo toporagno mi darà problemi se lo lascio là ma che devo fare qua mi dice che c'è un nemico mega power ah è il lampione eh sarà uno di quelli di fuoco quindi mettiamo questo di qua di acqua fa un culo bravo bravo eh vabbè devo recuperare un altro eh ma ha fatto soltanto attacchi rossi sto stronzo qua c'è un micione questa cosa che i nemici si camuffano con l'ambiente non è che è mica tutta sta roba fa un culo si ma non lo piglia non lo piglia perché è una testa di cazzo non lo piglia perché è una testa di cazzo non mi viene che è un'altra baltracca cazzo quello cazzo è andato aspetti signor micio mi ascolti questo lo devi smandrappare ok allora qui là c'è un bauletto da prendere aspetta mi faccia eh qua ci sarà un casino secondo me cazzo beh io però una certa aspetti ah certa posso anche utilizzare il piccione ma se magari lo pigliassi sarebbe anche meglio non si infiamma questa ole andata andata ah di qua non si può andare ah di qua c'è pure fatto bene utilizzare il piccione no no c'è il bauletto fuori che testa di cazzo però di qua non ci posso andare no di qua di qua si invece no qua neanche vaffanculo ah hai visto che voce orientale ma ma io mi valigazzi mi detto Not a show. infatti questo è quello che c'è su neo 1 ah orso di atlante bene bene ci piace posso andare via sto luco di merda lei è ancora chiuso quindi niente però sta cosa che te bloccano l'uffita cioè io mica lo sapevo che lì c'era il postino finale posso armonizzarlo al posto di questa vabbè allora sti cazzi questa è la principale o secondaria c'è sbloccato nient'altro c'era qualcosa qua che è tremato ero passato su un punto dov'è vedi vedi qua vedi quindi non sta ah vedi stanno proprio sfognati molto interessante comunque giocca del mago attenzione nel sud della provincia di Yamashiro soggio il monte Tenno sembra molto a rida la situa Sì C'è manhata Entriamo direttamente in boss fight? No, apparentemente no. Ah bella questa ambientazione, che bella. Diversa. Va bene, va bene, va bene. Aspetta, prima di... Se abbiamo un punticino con la katana... Ehm... Cura. Ah, beh, questo è quello che dovevo sbloccare. Sì. Oh. Eh, vabbè, lo proviamo. Quindi quello col quadrato non serve a una minchia. Da non entra subito, ma 3 per 100, 2, attenzione. Good. Piccole cose però, insomma, piano piano, pino pino. No? Allora, qua abbiamo 67 con un bel 27, molto bene. Questi non possiamo usare perché ci chiede forza, attenzione. Questo è un problema. Questa pesa di più. Questa pesa molto di più e richiede forza. Eh. Forse è un punticino di forza. Questa richiede forza. Eh, dobbiamo mettere un punticino di forza, allora. Questa pesa 5 kg in più. Va bene. Schioppo. E a chi fugge o non ci interessa. Il falcione lo tiriamo da qualche parte. Guarda, preferisco la doppia catana, guarda. Se veniamo tutto stombare la banderomba, quanto ci fammo? Un dubbio che ci fammo 200.000, però. Non si sa mai. Quanta 6.000. Vabbè, fammo niente. Aspetta, c'è una catana migliore di questa? Ah, ma c'è ancora la lancia. Aspetta. Andiamo danzando. Anzando. 281.592. Eh, senti va. Abbiamo della lancia perché è qua. La lancia non te lo deve mai. Ehm, ma qua io posso andare, sì? Però il vestito è di là. Vabbè, è lì. Vabbè, non... Non l'ho preso, ma non importa. Ok. Ah, non riesco a muovermi. Quindi forse ci si impantana qua. Eh sì, ci si impantana. Eh, però di qua si prosegue. Aspetta, aspetti, aspetti. Cristo di Dio. Venga qua. Penso valga anche per lui. Momento, giovinotti. Allora, vediamo di qua che si fa. Magari è solo una scorciatoia qua. Ok, vedi, è solo una scorciatoia. Quindi, or dunque. Andiamo prima sopra che è sotto, immagino. Brava. Ah, merda. Bravissimo. Otto frecce. Andiamo con la nona. Non è andata bene. Buon atterraggio. Allora, di qua. Che famo? Scala rotta. Questo è un po' sospetto qua. Qua ci sono ancora cose da prendere. C'è anche un... Niente, niente. Lancia e l'arma. La lancia e l'arma. Allora, di qua... Non si vede molto. Quello lo posso... Magari schioppettare? Schioppetto? Posso scoppiattare un attimo? Bravissimo. Bravo, bravo. Ah, c'è uno gnomo là, però. Cazzo, c'è pure Schiop. Cazzo, cazzo. Guarda sto stronzo di merda. Bravo. Bravissimo. Mamma mia. Mamma mia. Intanto fa anche cose fai, che è il buon... Giorgio Armando. Chi è? Cazzo. Porca la puttana. È stronzo. Buon morire di vecchiaie. No, sta così un po'... Un po' too much. È già siammato? Vabbè. Anyway. Allora, qua c'è uno stronzo che... Quindi... 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 Qui va? Chi... Cristo di Dio Sua nonna Sua nonna Era da un po' che non mi metteva ste baldracchie Bene 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 Siamo un attimo impantanatico E a quella l'acqua non gli faceva niente Allora qua c'era un gnometto Fermi tutti Allora qua forse c'è un ramo Che no Non c'è alcun ramo Aia Cazzo Ah proprio sta venendo dritto per dritto E a questo il fuoco non gli fa niente C'è uno gnometto Allora un momento Prima salviamo l'ognometto Non possiamo Eh non mi fa salvare l'ognometto Infatti mi sembravo troppo vicini Chi è? Cazzo Datemi una scala che vi faccio il culo Datemi un culo che vi faccio una scala Attenzione Questa forse l'ha scorciato io di prima Eh ma non posso prendere l'ognometto da qua Devo andarci da su Su come cazzo ci arrivo? No Che cazzo fa? Ma com'è possibile? Guarda le testa di cazzo Ma che fa? Ma quindi qua come cazzo ci si sale? Da qua sopra Salve Gianni Bravo Bravissimo Scusi Ma che fa? Intanto fa cose Intanto Ogni spesso fa cose Allora qua Forse un modo per trovare da Per arrivare dal giacobino Ce la facciamo Ahia c'è pure un Qualcuno di incazzoso Di qua sono Sì sono arrivato Di qua qua Ok Good 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 Allora io mi gioco tutto Mi gioco tutto Porca mamma Mignotta Cristo di Dio Vabbè Vabbè Lancia la laccata Ah qua ci dovrebbe essere un mio metto Vedi si c'è un mio metto Mentre di qua Niente Ah c'è un mio metto Ma come torna indietro Lo fa tutto il giro Vabbè posso tornare direttamente al falone Allora adesso un livellino lo potrei fare in teoria Adesso un livellino lo potrei fare E quindi famoselo Famoselo Lo mettiamo in forza Ecco L'energia Eh vabbè Facciamo forza Poi l'energia 12 frecce Ottimo Abbiamo buttato 12 frecce C'è un accesso Molto bene Molto bene Allora io posso andare qua senza rompere le palle a nessuno Aia Chi mi ha visto? E' qui dietro E non si vede un cazzo Chi cazzo è? Allora uno l'abbiamo beccato La prima di... Eccolo Eccolo Vedi ce ne stava un altro Brutto figlio di... Una troia schifosa Allora Fiamo così Fiamo così Cazzo Sono in due Via Eh no ma te ne devi andare A cagare però Bella storia Bella storia Ah ma si ritaricano la vita Scusi 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 Almeno lei lo tolgo di mezzo No lo devi fare così Allora c'è qualche scronzo che lo guarisce E' il cristallone? E' il cristallone Ahia c'è una gnotta là Cazzo C'è un'altra gnotta qua C'è un'altra gnotta qua Questa è quella di prima Venga Daia Allora vieni ad andare dalle gnotte Qua non si può Scusi Questa devo la mia metto qua Non so mai Che mi possa tornare utile Mi faccio niente col fuoco Quindi qua dove vado a finire Per curiosità Ah non ce l'ho stato qua Solo per recuperare la sua cosa Va bene Qua l'ho recuperato tutto Sì non gli posso fare In qualche modo L'attacco dall'alto La signorina Allora Allora Vediamo se c'è dell'amuleto Fulmine Dove è verne Ti vediamo Basta Fulmine Così è molto più semplice da gestire con il fuoco in questa. Quindi tu questo era solo così tanto bene, vabbè. Quindi non mi andate qua. Questa si apre? Ah se questa si apre andiamo qua. Acqua sacra, va bene. Quindi devo capire che serve questa acqua sacra. Facciamo da qualche parte. Eh, non ci posso andarla però. A quanto c'è il bonus adesso? Posso armonizzarlo al posto di questo? Oh, benissimo. Questo sarà chiuso immagino, sì. E là com'è? Senta giovane! Vale. Ok. Allora aspetta, qua c'è qualcosa scendendo. Sembra di no. Comunque qua si rimane impantanati nella risaia. Bisogna attirarli qua nelle zone di... ... Che fanno? Ho sincronizzato. Bravissimi comunque. Che cazzo è? Che cazzo è quello? Così, così. E vabbè. Vabbè, combattiamo qua nella risaia. E' vaffanculo. Che lui è stato più bravo? E' stata... No, scusi! Allora, un punto di competenza con la lampa lo impiegherei a breve. Ma non è brevissimo. Scusi, venga qua. Cazzo. Brava la merda. C'è uno stronzo là che... Fa lo stronzo. Eh, vabbè. Questo infinito è oltre. Bene, ma non benissimo. Attenzione, c'è quello con cannone addirittura. Cazzo. Scusi. 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 Vabbè. È andato. Qual è pantosità? Chissà se si va di là o di là. Ah, guardalo là! All'interno di qua dovremmo andare ad aprire la scorciatoia. in una linea molto teorica. Allora. Allora. che è andato. Allora. 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 Qua si può andare sia sulla destra che sulla sinistra. Qua si può andare sia sulla destra che sulla sinistra. Qua c'è un'altra. Qua c'è un altro che lo metto. Lo metti a gogo proprio. Però di qua la strada non era finita mica. Quanti cazzo state? Scusate. 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 Pessima idea. Lo giro. Sono stato più veloce io, giovane. Avanti. Olè. E anche questa è andata. Per ramo divino che è utile. Palla di sterco che è un po' meno utile. Va bene. Riposatino al falo. Potrei passare di livello. Olè. Varendo. Però dovrei spiegare un bel po' di palle di spirito. Ah. Guarda là. C'è un altro. C'è un altro. C'è un altro. Com'è che non mi hanno visto. Anzi. Eh. Però qua giù si va. Scusate. Non c'è una scala che non vedo. Scusate. Non c'è una scala che non vedo. O crollerà il ponte. Eh. Però c'è l'ognometto qua. Com'è? Come torno qui su? C'è la crofita? Che fai? Vabbè dai. Salvare. Salvare l'ognometto sempre. Qua c'è... Ecco c'è... Schifidume. È nemico? Ah, è il mago. Ma che cazzo fa carta forbice e pietra? Giovane. Guardalo questo. Bravistica. Però sono molto eleganti. Che sosti così nella mappa? Questa si apre. Cazzo! Sì, ha un po' rotti i gazzi però. Bravo! Sì, ha un po' rotti i gazzi però. Sì, ha un po' rotti i gatti. Ah, ma viene curata sta stronza. Non lo ucciderò mai così. Se poi licchia il mio personaggione eh. Eh no, così no. Non vado da nessuna parte. Così eh. Ah, c'è pure quello qua. Eh vabbè. Se ci mettiamo qualcosa così... Così colpisco entrambi. Ah ok, è andata dritta. Mi pensavo peggio. Ciocca del mago. Ottimo. Ottimo, ottimo direi. Ma qua è... Ma come fare queste mosse? Non me le fanno fame. Allora qua c'è lo mio metto. Però mi sto confondendo un attimo eh. Qui è di questa. Devo cercare un attimo di capire come cazzo ci si arriva qua. Dentro la giornata che guarda. Attenzione. Mi è piaciuto particolarmente eh. Allora di qua c'è un'altra porta. Solo dall'altro lato. Ok. E qua c'era una scala. No. Oddio mi sono totalmente persa. Eccola qua. Ah infatti magari... Eh dove ero prima. Qui. Qui. Di là si scende. Di qua si sale. Pensa te. Cazzo. Allora. Facciamo così. Attenzione questo è quello mega power. Cazzo. Presto. No. 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 Non va bene così. Porca la puttana di sua nonna. Si. Non smettiamo di far acqua a Ninja Tartor. Eh vabbè. Fanno dp hole. Fanno dp hole. Ma qua c'è tutto un mondo da esplorare. C'è una zona bella grossa. Ecco c'è pure un gnometto C'è pure un paura Ciocca del ninja Mi dà male Da dove sarei dovuto entrare Questa è chiusa Questa è chiusa Vabbè quante cazzo di scorce due ci stanno Chi è? Era lei che faceva cose Ah poi c'è un altro Qua dove ero prima Ok Qua non ce ne può fare niente Di là non ci posso andare quindi Mi faccio i cazzi miei Eh però io di qua mi posso buttare E mi apro la porta Quindi qua si può andare però Eh Devo andare su o giù Qua c'è un'altra zona C'è un gnometto Quanti cazzo di gnometti ci stanno? Ah infatti abbiamo finito Per me il boss fight qua sarà Devastantemente difficile Bravo lo stronzo Ma non è vero Ma non è vero Non è vero Sono vivo per miracolo Ok sono vivo per miracolo Ok sono morto Ah sono pure cercato Vabbè io Adesso gli darei un taglio Ah scusi Poi risalga lei eh Aspetti che Nel tempo vado Vado incontro a quella freccia Perché Sembrava molto bella Aspetti Bravo Vabbè poi quando risale Mi dispiace se è l'archibugio Cristo ma che fa Si è nascosto Porca la mignotta Scusi eh Scusi eh Scusi eh Fa un culo Ah qua c'era solo questo Allora un va a cagare Se lo merita tutto Quindi Cioè io posso andare Di nuovo giù Oppure su Molto Pano al monte Dove cazzo sto andando qua Allora quindi io ripartirei da qua Vero Prendi abilità Una nuvia Cosa che mi stava interessando Trecce avvenenate Si Ecco Poi Abilità con la lancia Mi sono compratta Da punto di trovare Prima Ma è questo Abbiamo dei titoletti No Però abbiamo Dei Ciocche Che possiamo Utilizzare Che possiamo Utilizzare Voglio Guardare Questa E l'altra Resistenza All'acqua Va bene Bene No Questo Questa fa cacare! Questa è una voce al ventera! Nines! 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 Accomma! Questa è un programma di nuovo! Ok! Cosa riusciamo a fare un livellino? Per offerta! 115 non ce la facciamo! Però ci manca 30.000! Cazzo! C'è una telepala! Dobbiamo usare 15.000! Possiamo diventare a lui che fa energia! Gutt! Cazzo! 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 Cazzo!